Eh già, ormai l'abbiamo fatta nostra. La giornata mondiale della psicologia. Bello vè? Peccato che però il 10.10, oggi il 10 ottobre, è la World Mental Health Day, la giornata mondiale della salute mentale. Bentornati alla psicologia e benvenuti a un nuovo video. Ma Daniele, ma strai? È la giornata mondiale della psicologia in senso lato. Sarà anche in senso lato, ma quando si parla di salute mentale non è che ci siamo solo noi, ci stanno talmente tante di quelle figure professionali, strutture, cooperative, che collaborano per la tutela della salute mentale, che io sinceramente non mi sento di dire che oggi è la giornata mondiale della psicologia. Poi, perché? Perché non abbiamo il nostro giorno sul calendario? La giornata mondiale della salute mentale è una giornata istituita nel 1922 dalla World Federation of Mental Health. anno in cui nasco io, tac, giornata della salute mentale. È promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla WHCO, con la finalità di sensibilizzare e promuovere la salute pubblica tra le persone. E per salute non intendiamo l'assenza di una malattia, nel nostro caso di una psicopatologia, ma intendiamo un completo benessere di stato fisico, psicologico e sociale. Ogni anno si stabiliscono degli argomenti. L'argomento di quest'anno, il tema di quest'anno, è la salute mentale legata ai fattori suicidari, al rischio suicidale, al suicidio. Infatti la giornata di oggi, di quest'anno, viene sostenuta dall'International Association for Suicide Prevention. Quindi a mio avviso, chiusa questa giornata per i propri interessi, Ah beh, non vi preoccupate, non vi scandalizzate se girate su Facebook, anche su Facebook o su Internet. Vedrete un sacco di iniziative per se stesse, tanti master, scuole che fanno uno sconto del 15-20% per oggi. Per promuovere la propria figura professionale o per fare propaganda, non sanno proprio di quello che parlano. Circa 800.000 persone muoiono ogni anno per suicidio. Inoltre, per ogni suicidio ci sono 20 tentativi di suicidio. I tentativi di suicidio, ma anche il suicidio, come avevo spiegato nel blog che avevo fatto al convegno di suicidologia, hanno un effetto a catena devastante sulle persone che stanno intorno, amici, familiari, parenti più stretti, società. È la seconda causa di morte, cioè, avete capito, la seconda causa di morte tra i ragazzi di 15-29 anni e si stima che l'1,4% di tutti i decessi del mondo siano suicidi. In Italia il tasso di mortalità per suicidi, fortunatamente, è in diminuzione. Si stima intorno ai 6 su 100.000 abitanti, che è inferiore rispetto alla media europea di 11 su 100.000 abitanti. Spesso si collega i rischi suicidari e il suicidio in sé per sé con fattori problematiche di natura mentale, come depressione, ma anche legate ad abuso di sostanze. Ed è vero, eh? Ma nel settore sappiamo che non è l'unica fetta e non è neanche la fetta più grande. Tra i fattori di rischio maggiori per quanto riguarda il suicidio troviamo aver compiuto, aver tentato prima il suicidio, la discriminazione, la perdita, la solitudine, problemi di natura economici, malattie croniche, violenza, abuso e tanto tanto altro. Questo video non è un video di polemica, questo video è per dire che i suicidi si possono prevenire. Si può fare molto a livello individuale, comunitario e nazionale per la prevenzione del suicidio. E come dice la WHO, sicuramente andando a limitare l'uso di armi, a limitare l'erogazione di farmaci e di pesticidi, ma anche entrare nelle scuole a fare campagne di comunicazioni serie, ma efficaci, colloquiando con i media per una migliore divulgazione. Noi, noi in primis, i nostri ordini a colloquiare con le politiche regionali e nazionali per aumentare l'informazione della psicologia, il bene che può fare la psicologia e per investire su di noi, per aumentare gli interventi, aumentare la formazione degli operatori, ma tanto altro. Spesso, come avevo già parlato nel video, il suicidio è un tabù. Vediamo oggi, tutti insieme, in questa giornata, di cercare di abbattere questo tabù con i nostri singoli interventi. Ciao! 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 Ciao!